Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi andremo a vedere un SSD di una marca un po' particolare. Partiamo subito! Bene ragazzi, eccoci qui di fronte all'ennesimo pacco di Amazon. Qualche giorno fa, tra che stavo navigando per cercare delle altre cose, mi è comparso un SSD di una marca un po' particolare. Sto parlando del SSD da 256GB della Pioneer, al che appena l'ho visto mi sono subito insospettito, nel senso mi sono detto ma non faceva le autoradio, anzi delle ottime autoradio direi, e effettivamente sì, sembrerebbe che Pioneer si sia indirizzata anche in questo settore. Sarà sincero, non appena l'ho visto mi sono subito incuriosito perché mi sembrava davvero molto strano che una marca del quale praticamente all'interno delle mie audio possiedo tutto, tranne le casse che come ben sapete sono della Focal, insomma mi ha incuriosito molto il fatto che una marca che appunto principalmente produce prodotti per l'audio si sia messo a fare anche gli SSD. Però, dato che il prezzo era invitante, ovvero parliamo di 34,99€ se non ricordo male, per un hard disk da 256GB, e non 250GB ragazzi, questo è importante, con memorie 3D NAND, mi sembrava davvero un ottimo prezzo. Tra l'altro giro vagando su YouTube, non ho trovato video in italiano che ne parlassero in merito. Seconda cosa, non ho trovato nemmeno delle informazioni dettagliatissime per quanto riguarda questo SSD. L'unica cosa che sono riuscito a trovare in rete è il fatto che questo disco dovrebbe montare delle memorie della marca Toshiba, il che comunque non è male. Parliamo di una marca che è validissima. Comunque, andiamo a fare un unboxino e anche un piccolo speed test sia su USB 3.0 sia su SATA 3. Ovviamente non mi aspetto cose estreme, nel senso che, o quantomeno fuori dalla norma, avremo sicuramente i soliti 400MB in lettura-scrittura, forse anche qualcosa di più, però considerando che il prezzo è davvero basso, penso che ci possiamo accontentare. Allora, andiamo a vedere, prima di tutto, anche sulla confezione, se troviamo dei dati che possono esserci utili. Non è presente la lingua in italiano, vediamo comunque che è un SATA 3 6 Gbps, ha il trim, LDPC, praticamente LDPC significa Low Density Parity Check e sostanzialmente è un algoritmo avanzato, studiato in modo tale da estendere la vita della memoria NAND che monta questo disco. Supporto e ride è ok, le dimensioni sono 100mm x 70 x 7mm, pesa 35 grammi, made in Taiwan e il codice modello è APS SL3, come abbiamo visto, anzi APS SL3N, non so perché qua non si è riportato. Direi che a questo punto possiamo andare ad aprire la confezione e vedere cosa troviamo. Eccolo qui ragazzi, il nostro SSD della Pioneer, confezione davvero davvero minimal, sinceramente anche carino, devo dire, non è male, mi piace, minimal. Da un po' l'impressione di essere proprio cheap, come si dice nel gergo, economico. Però dai, ora lo voglio provare e vedremo un attimo come va. Da notare anche una cosa molto buona, il fatto che sia stato prodotto nel gennaio 2021, quindi un prodotto recentissimo, anche perché l'ho acquistato adesso a marzo, penso che meglio di così non poteva andare. Made in Taiwan, solid state drive, Japan, 256GB, codice modello, come detto prima, APS SL3N256 e siamo pronti per il test. Poi troviamo anche un manuale che ci spiega come va installato il disco a seconda che noi abbiamo un portatile o un pc fisso. Non è presente l'italiano, sembrerebbe, ma nemmeno l'inglese. Sì, l'inglese è eccolo. E vabbè ragazzi, tanto poco da imparare, insomma sappiamo già come montarlo. Non troviamo altro in questa scatola. Direi quindi che possiamo passare alla fase di test. Eccoci qui ragazzi, benchmark appena terminati. Il programma che ho utilizzato per farli si chiama Crystal Disk Mark 8.0, se può esservi utile. Devo dire che sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti, in quanto questo disco ha superato anche le mie aspettative. Non credevo che potessimo arrivare a superare i 500 MB in scrittura e lettura, dato che comunque si tratta di un SSD economico. Risultati quasi pressoché identici al mio Samsung 850 Pro, con l'unica differenza che costa molto molto di più. Lievemente in qualche punto il Pro eccelle, ma siamo veramente lì ragazzi. Cambia pochissimo. Da considerare anche il fatto che io ho circa 7 TB scritti sul mio 850 Pro, quindi le celle potrebbero essere lievemente usurate. All'inizio ricordo che faceva un pelino più in lettura e scrittura, ma comunque ragazzi, i risultati che vedete nello screen sono ottimi per questo disco, considerando il suo costo di 35€. Vado ora a spiegarvi, specialmente per i meno esperti, questa diapositiva che vedete a video, e soprattutto perché nei due test effettuati abbiamo riscontrato velocità diverse tra loro. Nella parte di sinistra vedete il benchmark che è stato eseguito con l'SSD, inserito all'interno del case USB 3.0 della Sabrent, di cui tra l'altro ho fatto un video tempo fa. Se ve lo siete perso potete trovarlo all'interno del canale utilizzando la funzione cerca. Nella parte di destra invece vedete il benchmark che ho effettuato tramite l'interfaccia SATA 3, quindi nativa, ovvero disco SSD attaccato direttamente al PC tramite cavo SATA, basta. Quindi, perché riscontriamo velocità diverse? La spiegazione è molto semplice e ve la mostro anche tramite questa tabella. Qui sono riportate le varie velocità teoriche ed effettive per entrambe le interfacce utilizzate. Come potete vedere, per l'interfaccia SATA la velocità massima teorica si attesta sui 6 gigabit per secondo e quella effettiva invece si attesta sui 4,8 gigabit per secondo. Invece, per quanto riguarda l'interfaccia USB 3.0, come vedete, la velocità teorica è di 4,8 gigabit per secondo, ma quella reale è di 3,2 gigabit per secondo. Ne deducete quindi che, prima di tutto, i test che abbiamo effettuato sono praticamente in linea con quanto riportato nelle tabelle trovate su Wikipedia. rispettano al 100% quello che ci aspettavamo di trovare. Vi segnalo anche che comunque io non ho mai visto personalmente un SSD SATA 3 fare 600 MB. C'è sempre un po' di collo di bottiglia e siamo massimo 550, 560, cioè di più non ho visto andare. Almeno, per quello che ho visto. Poi, se voi avete visto altro, fatemi pure sapere. Invece, mi volevo soffermare per quanto riguarda il case della Sabrent perché otteniamo delle velocità che sono anche superiori a quelle riportate nella tabella di Wikipedia e, tra l'altro, questa è una cosa da non sottovalutare, ragazzi, significa che il controller presente all'interno di questo case USB 3.0 è davvero buono, efficiente, perché vi posso assicurare che se voi andate a comprare altri case USB 3.0 non con tutti otterrete questo tipo di velocità. Va bene, ragazzi, per quanto riguarda questo case della Pioneer da 256 GB credo che sia davvero tutto. Ha soddisfatto pienamente le nostre aspettative, anzi, superandole anche di un po'. Sono molto soddisfatto di lui. Ora vedremo nel lungo termine come si comporta, ma attualmente devo dire che, ecco, sono super soddisfatto. Io ve lo consiglio, anche perché il prezzo è di soli 34,99€, quindi ottimo. Detto questo, vi ringrazio per la visualizzazione. Se il video ti è piaciuto, ovviamente, metti un bel like, iscriviti al canale, attiva la campanellina per restare sempre aggiornato sulle novità che posto di volta in volta. Per oggi è tutto e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.